Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo di un grande pittore italiano del Novecento, un pittore che è nato a Torino e che ha seguito uno stile accademico con delle particolarità a livello iconografico. E oggi vi parlo di Luigi Morgari. Allora, Luigi Morgari è stato un pittore italiano che è nato a Torino nel 1857. E' importante sapere che Luigi Morgari nacque da una famiglia di artisti. Sappiamo per esempio che il padre di Luigi Morgari, che si chiama Paolo Emilio Morgari, è stato un pittore. Ed è stata pittrice poi la moglie Paolo Emilio Morgari, che si chiama Clementina Lomazzi, è stata anche lei una pittrice. Una grande artista. Luigi Morgari vive e studia a Torino, studia anche all'Accademia di Belle Arti di Torino. ed ebbe come professori Enrico Gamba e Andrea Gastaldi, uno dei due professori di Luigi Morgari. Luigi Morgari, oltretutto, è stato un pittore dell'accadenismo, ma con uno stile un po' particolare e con delle caratteristiche molto interessanti dal punto di vista iconografico. Dopo gli studi Luigi Morgari va a lavorare in diversi luoghi d'Italia per rappresentare sia soggetti sacri, sia soggetti profani. Ma soprattutto soggetti sacri. Si dedicò principalmente a composizioni di soggetto religioso e fu anche un accurato vetrista e un buocolorista. Si affermò alle esposizioni di Torino, di Milano, di Firenze e Roma e oltretutto fu soprattutto un grande affrescatore e ha lasciato innumerevoli dipinti nei santuari di Bussana e di Ro, nella cattedrale di Alessandria, nella chiesa di San Gioachino a Torino e nella chiesa di San Michele Arcangelo, nella chiesa di Olevano di Lomellina, che si trova a Padova, dove appunto c'è un bellissimo ciclo pittorico con la scena dell'Arcangelo Michele che combatte contro il demono. Ecco, Luigi Morgari rimane comunque con uno stile accademico, però ha una particolarità che è proprio tipica di Luigi Morgari e di pochi artisti, che è questa. Luigi Morgari rappresenta, se parliamo di una semplice rappresentazione così, non so, di un'attività, una rappresentazione al Tempio, una crocifissione, eccetera, rappresenta i personaggi in secondo o terzo piano massimo. E questa che è la particolarità di Luigi Morgari è che lui mette anche i personaggi importanti della scena in secondo e in terzo piano, cioè cerca di aggiungere più piani in un'unica scena. E' una cosa che fa Luigi Morgari. E questa caratteristica lo vediamo per esempio nella crocifissione che si trova nella chiesa di San Gregorio a Milano, che è una crocifissione particolare perché come vedete, ecco, questa crocifissione è stata realizzata intorno agli anni 20 del Novecento. Luigi Morgari fa questa crocifissione, fa la scena degli angeli che spengono le fiamme del Purgatorio e poi nella scena a destra realizza invece la scena della risurrezione della carne. Tra l'altro in questo affresco si può intravedere da lontano, anche in terzo piano, il lazzaretto di Milano, come era una volta. E niente, lì nella crocifissione i personaggi come il centurione e gli altri soldati, eccetera, sono rappresentati in secondo piano. Una cosa particolare è che Luigi Morgari nel dipinto dello spegnimento delle fiamme del Purgatorio è presente un'immagine, è presente un'anima del Purgatorio che assomiglia molto a un personaggio delle scene dell'Apocalisse di Luca Signorelli. Il ciclo di Luca Signorelli si trova nel Duomo di Orvieto. Ecco, questo è il collegamento. Ecco, Luigi Morgari, oltre a realizzare questi affreschi sopra l'altare, ha anche realizzato dei piccoli affreschi all'interno della cripta sotto la chiesa di San Gregorio. E ha realizzato questi piccoli affreschi e ha anche realizzato un trittico che è chiamato poi il trittico della Ressurrezione con Santa Felicità e Santa Giovanna d'Arco. Queste sono le opere che poi sono presenti in questa cripta che è importante sapere che in quella cripta un tempo, perché poi sono scomparsi nel corso del tempo, erano sepolti inizialmente il poeta e scrittore Vincenzo Monti e il grande pittore dell'Ottocento Filippo Appiani. Erano sepolti lì perché un tempo c'era il noto cimitero San Gregorio che poi è scomparso nel corso degli anni. Poi Luigi Morgari fece degli affreschi dei dipinti anche nei palazzi della famiglia Quartana a Genova, a San Luca d'Alvaro e nella chiesa di San Siro a Lomazzo, in seguito riprodotti anche a Tirano. Poi Luigi Morgari, oltre a lavorare a Genova, lavora in varie parti della Liguria come Imperia, come Rapallo e come Santa Margherita Ligure. Una cosa interessante da sapere è che, per esempio, nel 1919 affresco la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità San Bastiano a Gradella, che è una frazione di Pandino, con un ciclo dedicato a San Bastiano, che San Bastiano è stato poi il primo vescovo della diocesi lodigiana. Ragguardevoli, oltretutto, sono le formelle di Santi ed Evangelisti e le due cappelle laterali, una dedicata a Sente Eurosia e l'altra alla Madonna del Rosario. Va comunque ricordato che negli anni in cui Luigi Morgari fece gli affreschi a San Gregorio a Milano, nel 1922-1923 affrescò la chiesa parrocchiale di Cortazzone con un San Secondo a Cavallo e, sulla volta, San Siro benedicente il paese. Tra tutti i suoi interventi spiccano oltretutto gli affreschi della Basilica Romana, minore di San Nicolò Alecco, realizzati tra il 1925 e il 1928. Ecco, adesso vi parlo di un dipinto abbastanza particolare di Luigi Morgari, che ha la stessa caratteristica come nel dipinto che vi ho parlato precedentemente, che è la Crucifissione, dove ha il secondo e il terzo piano, anche in questo dipinto c'è la questione del secondo e terzo piano. E questo dipinto, che vi parlo, è l'adorazione dei Re Magi. Dunque, in questo dipinto, come vedete, c'è il classico mandone col bambino, il San Giuseppe, i Pastori e, in secondo piano, ed è lì la cosa particolare di questo dipinto, in secondo piano, ci sono i tre Re Magi. I tre Re Magi e, addirittura, una cosa particolare che difficilmente si vede nei dipinti, è la presenza di un elefante. Allora, questa Natività del 1928 è conservata attualmente nella chiesa di San Martino a Tirano. e, come vedete in questo dipinto, il cartiglio in alto riporta la dicitura Vitimus Stellam Eius in Oriente. E già da lì si comprende che si sta parlando dei tre Re Magi giunti dall'Oriente e, appunto, l'intera opera del Morgari è intitolata l'adorazione dei Re Magi. Tuttavia, però, l'artista di origini piemontesi pare abbia voluto dare più enfasi alla purezza essenziale della scena della venuta al mondo di Gesù Salvatore. è tipica, in questo caso, una semplice naturalezza che è capace di conquistare la capanna dove Maria, sotto lo sguardo attento e premuroso del marito Giuseppe, mostra agli umili pastori del bambino Gesù, da lei concepito, senza peccato originale. non mancano in questa scena il bue e l'asinello, ma cattura lo sguardo quella che si può definire una scena di rieto evento, che gli angeli in volo paiono voler narrare in questa scena. come vi dicevo prima, non è in primissimo piano i tre Re Magi e, parlando dell'elefante, si può dire che l'elefante, a livello iconografico, è molto particolare perché difficilmente si trovano elefanti nei dipinti, nelle scene, persino nell'opera del 1400 è presente raramente. ecco, la presenza dell'elefante che dalla collina è guidata da insoliti personaggi e entra in questa natività di San Martino in Tirano. Secondo, in generale, la critica artistica giudica questa questa adorazione dei Re Magi come qualcosa di scrupolosamente descrittivo e di valuta intonazione popolare. Si tratta però di un dipinto di un livello decisamente elevato, che ben descrive quell'atmosfera di mistero e sacralità tra le natività più poetiche dell'arte in materia. Bene ragazzi, anche con questo io concludo. Fatemi sapere cosa ne pensiate di Luigi Morgari e vi saluto. Ciao ragazzi!